Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorred e oggi parliamo di Amici 20, terza puntata, vediamo chi è stato eliminato. È andata in onda la terza puntata del serale di Amici 20, programma condotto da Maria De Filippi su canale 5. E come di consueto ci sono state le varie manche che hanno decretato gli eliminati di questa terza puntata del serale. Nella prima sfida abbiamo visto il team Arisa Cucarini che ha deciso di sfidare il team Rudy Celentano, quest'ultimo è il team perdente e l'eliminato è Tommaso. Nella seconda manche invece ritroviamo il team Arisa Cucarini che decide di sfidare il team Rudy Celentano e di nuovo quest'ultimo è il team perdente. E va al ballottaggio finale Daddy. Nella terza manche si sfidano il team Cucarini Arisa contro il team Peparini Pettinelli e quest'ultimo è il team vincente. E va al ballottaggio finale quindi a rischio eliminazione Rosa. Vanno al ballottaggio finale Rosa contro Daddy. E come di consueto l'eliminazione viene annunciata in casetta. E il secondo eliminato di questa terza puntata del serale è... Rosa. E voi siete contenti di questo risultato? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red. Grazie a tutti. Grazie a tutti